nasce l'anello di fidanzamento per appassionati di serie tv e se non ce l'hai addio puntate proprio così alcuni anni fa per una coppia fidanzata esisteva un solo tipo di tradimento quello carnale oggi però non è più così oggi siamo nell'epoca delle serie tv e nell'epoca delle serie tv sono le serie tv stesse a mettere la regola quindi di conseguenza se due partner stanno guardando o recuperando una serie tv ma uno dei due non resiste ed anticipa la visione della puntata successiva prima dell'altro possa vederla quale oggi è considerato tradimento allo stato puro ed è considerato tradimento al punto tale che qualcuno ha pensato di mettere fino a questa cosa con un anello speciale quindi sulla base di questa premessa surreale i tipi di cornetto unilever di ok hanno creato un'operazione di comunicazione di marketing piuttosto geniale fin dal nome series commitments che gioca per l'appunto con le parole series e sirius legata all'impegno di fedeltà trattasi di due anelli che utilizzano la tecnologia nfc per collegarsi tra loro e sbloccare servizi di video streaming come netflix disney plus amazon video eccetera eccetera infatti la coppia registra gli anelli tramite un app dopodiché sceglie la serie tv che vuole guardare insieme e se l'anello dell'uno non è vicino all'anello dell'altro l'applicazione blocca subito la visione delle nuove puntate insomma un'idea parecchio simpatica seppur folle tra l'altro lo slogan della compagnia è proprio l'amore dovrebbe durare più di una stagione e tu cosa ne pensi di questi anelli li compreresti insieme al tuo partner a me sembra un po troppo ma dimmi la tua in un commento e seguimi per curiosità o teorie sul cinema e sulle serie tv